Il passaggio segreto, Ripa del Sale a Diacense Piazza del Duomo. Sospeso sopra Ripa del Sale, si sottrae alla vista dei passanti. Un piccolo corridoio su cui si ritagliano due finestrelle che permettono di osservare senza essere notati la piazza e la sottostante via. Questo sovrappasso fu realizzato nel 1637 dall'architetto pistoiese Pantaleone Quadri per permettere di collegare i due più importanti edifici della città e consentire ai priori di accedere dal palazzo del comune direttamente alla cattedrale senza entrare in contatto diretto con la città. La costruzione di questo passaggio privilegiato è emblematica perché riflette non solo un'esigenza pratica ma anche la distanza sempre più netta che si era creata tra governanti e cittadini considerati ormai come sudditi. Il piccolo sovrappasso è decorato con bisanti che rievocano lo stemma medicio ribadendo il potere della casata dei medici sulla città e la sua annessione al Gran Ducato di Toscana. Attualmente è possibile percorrere il corridoio entrando da una piccola porta rialzata presente. In sala maggiore, ma l'antico accesso in cattedrale è stato chiuso.